Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. Il maltempo in Sicilia continua a seminare il panico. Almeno due persone sono state vittime di alluvioni. Il loro destino è stato reso noto grazie a un testimone accidentale, un altro conducente, che è stato successivamente salvato dai servizi di emergenza. E, successo nel Catanese, dove torrenti d'acqua e fango hanno spazzato via le auto dalle strade, abbattuto alberi e distrutto piccoli edifici. Il motivo sono state le piogge torrenziali, accompagnate da raffiche di vento a una velocità fino a 100 km all'ora. Molte scuole sono state chiuse, circa 80 persone sono state evacuate. L'amministrazione regionale chiede al governo di dichiarare la Sicilia zona disastrata, la protezione civile ha esteso per martedì il regime di pericolo del Tempo Rosso, i meteorologi avvertono della minaccia di nuove alluvioni. Le autorità di queste regioni d'Italia hanno cancellato le lezioni nelle scuole, chiusi i parchi cittadini e altri luoghi pubblici al pubblico. Secondo quanto riferito, le squadre di ricerca e soccorso hanno effettuato centinaia di operazioni in tutta l'isola, salvando persone. Il maltempo in California continua a stupire. Mentre una parte è allagata e soffiano forti venti, dall'altra parte nevica pesantemente, 70 cm di neve fresca, caduti in 12 ore, hanno interrotto il traffico nella Sierra, contea della California centro-settentrionale. Le autorità hanno emesso un avviso di tempesta invernale. La sezione dell'Interstate 80 è stata chiusa al traffico passeggeri. Le utenze stanno lavorando sodo. I venti dell'uragano, con raffiche fino a 144 km all'ora, sono stati accompagnati da forti nevicate, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, provocando la caduta di 75 cm di neve sul Donner Pass. Tutte le scuole sono state chiuse sulla sponda settentrionale del lago Tao, con 46 cm di neve registrati lì. Secondo le previsioni dei meteorologi, la nevicata non si fermerà per il giorno successivo. Sono previsti almeno 40 cm di neve. In diverse aree del Nevada sono stati battuti anche record di nevicate di un giorno. Anche parti della California meridionale hanno sperimentato basse temperature, dopo mesi di caldo e incendi. Lunedì l'uragano di categoria 2 Rick ha perso forza sul Messico occidentale e si è trasformato in una tempesta tropicale. Il ciclone Rick continua a indebolirsi, a luna del pomeriggio, si è trasformato in una tempesta tropicale. Il suo centro si trova a circa 50 km a ovest di Uruapan, nello stato di Micoacan. La velocità del vento all'interno del fenomeno atmosferico è di 26 metri al secondo con raffiche fino a 30 metri al secondo. La tempesta si sta spostando verso nord ad una velocità di 5 metri al secondo. Rick, ha tagliato la corrente a circa 100.000 residenti negli stati di Guerrero e Micoacan. 1100 specialisti e quasi 600 attrezzature, tra cui due elicotteri, sono coinvolti nella liquidazione delle conseguenze del disastro naturale. Nello stato di Guerrero, noto per le sue spiagge come Acapulco e Ziwatanejo, un uragano ha colpito la costa, con 37 case allagate. Secondo quanto riferito, un totale di 42 famiglie sono state evacuate. Sono stati registrati decine di alberi caduti e sei crolli di strade. Molte aree sono ancora senza elettricità. Un potente tornado ha colpito la città di Frederictown, capitale della contea di Madison, negli Stati Uniti. Secondo un rapporto preliminare del National Weather Service, il tornado era di categoria EF3. Un tornado con questa valutazione è considerato grave, con velocità del vento comprese tra 219 e 266 km all'ora. Alcune case sono state distrutte, numerose linee elettriche e alberi sono stati tagliati e caduti e detriti dagli edifici sono stati sparsi in diverse aree. I dirigenti scolastici hanno annullato le lezioni per gli studenti a causa di interruzioni delle linee elettriche, interruzioni di corrente e danni in tutta la città. Il National Weather Service ha detto che i rapporti preliminari hanno indicato fino a sei tornado nella parte settentrionale della contea. I soccorsi e i vigili del fuoco hanno riferito che potrebbero essere necessari diversi giorni per valutare appieno i danni causati. La buona notizia è che non ci sono ancora prove che qualcuno abbia sofferto a causa del disastro. E qui si è davvero infuriata, soprattutto se guardi questi scatti, che sono stati condivisi da testimoni oculari su internet. Un altro crollo parziale del cono si è verificato sul vulcano Cumbre Vieja. Ciò ha portato alla formazione di gigantesche fontane di lava con grandi emissioni di gas, cenere e lava. Seguì un'attività esplosiva molto forte, iniziata intorno alle due e mezza del pomeriggio, e l'apertura di una nuova bocca con un'imponente effusione di lava. In 24 ore sono stati registrati 274 terremoti, 24 di loro sono stati sentiti dalla popolazione, 110 aveva una magnitudo di 3.0 o più, e 4 di loro avevano una magnitudine di 4. Il cono attivo mostra una forte attività esplosiva ed effusiva, in particolare, le bocche in vetta creano spettacolari fontane di lava e creano un pennacchio di cenere che questa mattina si è alzato fino a 3.800 metri. Sono state osservate diverse colate laviche di superficie provenienti dal cono. Inondazioni improvvise si sono verificate in molte aree a seguito delle forti piogge che hanno colpito il nord di Sedawa, Trinidad e Tabago il 25 ottobre. L'abbondante deflusso delle tempeste ha allagato le case, le auto sono state spazzate via dalle strade da corsi d'acqua tempestosi. Il servizio meteorologico di Trinidad e Tabago ha affermato che l'acquazione è durato circa 45 minuti, ma ha lasciato molte conseguenze. Le strade sono diventate impraticabili, a causa di allagamenti e molti detriti. A causa dell'alluvione del fiume S, l'acqua ha ribaltato le auto, fortunatamente non c'erano persone a bordo, non sono state ancora riportate informazioni sulle vittime. L'altezza dell'inondazione ha raggiunto i 40 centimetri, l'acqua è entrata negli scantinati e nei primi piani degli edifici. Le autorità stanno fornendo assistenza alla popolazione, sono in corso le operazioni di evacuazione e di restauro. Trinidad e Tabago sono spesso soggette a forti piogge e inondazioni. Le autorità filippine affermano che centinaia di persone sono fuggite dalle loro case e sono state trasferite nei centri di evacuazione a seguito delle inondazioni in alcune parti della città di Dabao. Secondo il Centro Informazioni per il monitoraggio e la risposta ai disastri, le forti piogge causate da un temporale locale il 26 ottobre hanno causato inondazioni nei distretti di Bunawan e Bukangin. L'alluvione ha colpito 3.000 persone, di cui 400 evacuate. L'elemento acqua è arrivato nelle Filippine lunedì sera tardi a causa delle forti piogge. L'acqua in alcune zone ha raggiunto un'altezza di 2 metri. Di conseguenza, i residenti locali sono stati costretti a lasciare le loro case e cercare riparo tra alberi e tetti, da dove sono stati rimossi dai soccorritori arrivati. Molte case negli insediamenti sono state semplicemente spazzate via. Negli insediamenti non ancora colpiti dall'alluvione, le classi delle scuole primarie e secondarie sono state sospese. Si è deciso di spegnere l'elettricità in diverse zone della città di Davao del Norte in modo che le persone possano evitare scosse elettriche accidentali. Il tornado che ha colpito la città di Chester, nell'Illinois, ha causato gravi danni ai residenti locali. Squadre di soccorritori e servizi pubblici hanno iniziato a eliminare le conseguenze del tornado. Secondo i media locali, ha infuriato nell'orto a tarda notte, abbattendo alberi e linee elettriche, oltre a spargere detriti in tutte le direzioni. Una delle famiglie locali, la cui casa è stata quasi completamente distrutta, è sfuggita al disastro andando nel suo seminterrato, pochi minuti prima dell'arrivo del tornado. Sorprendentemente, nonostante l'entità della distruzione, nessuno dei residenti è rimasto ferito. Nella vicina Bremen, nell'Illinois, il percorso del tornado poteva essere visto dai rimorchi rovesciati agli alberi sradicati. Questo tornado era della categoria EF2. Quasi l'intera città con una popolazione di 8700 abitanti è rimasta senza elettricità. Il Illinois Highway 150, è stata chiusa a causa del crollo delle linee elettriche e delle torri. Il maltempo ha colpito la città di Gisan in Arabia Saudita. Un forte vento, le cui raffiche erano di 80 chilometri all'ora, non permetteva di muoversi liberamente per le strade. Ha piovuto molto in alcune zone. Che ha causato inondazioni locali. L'altezza dell'inondazione varia da 20 centimetri a un metro. Sui social media, le persone stanno attivamente diffondendo video dall'Arabia Saudita. Su di loro si possono vedere auto allagate. L'autorità di protezione civile dell'Arabia Saudita ha invitato i cittadini a rimanere vigili. Secondo le previsioni, la situazione potrebbe peggiorare, sono previste forti piogge, che potrebbero portare a inondazioni. Nell'aprile di quest'anno, una forte tempesta ha colpito le regioni centrali dell'Arabia Saudita, causando la morte di 12 persone. Più di 300 residenti sono stati costretti a cercare assistenza medica. In Florida, con tempo calmo, è stata osservata una tromba marina dalla forma strana a Key West, una città nella contea di Monroe, in Florida. L'impressionante fenomeno è stato filmato da residenti e turisti che si trovano nelle vicinanze e condiviso su internet. Il Servizio Meteorologico Nazionale, ha confermato il passaggio di un tornado d'acqua a soli 1,5 chilometri dalla costa. Il tornado d'acqua è apparso durante un periodo di calma, il vento era praticamente assente. I meteorologi hanno espresso la preoccupazione che il tornado possa arrivare a terra, ma non ha mai raggiunto la riva. Più tardi, la cella temporalesca si è indebolita, la rotazione del tornado d'acqua si è fermata, si è gradualmente dissipata. Se un tornado colpisce la costa, rappresenta una minaccia per la vita umana e può causare danni. Le prolungate piogge torrenziali hanno causato diffuse inondazioni in diverse aree del Vietnam centrale, provocando la morte di almeno una persona. Migliaia di persone sono state evacuate e questa settimana sono previsti altri acquazzoni. Nella provincia di Quang Ngi, dove almeno 4.500 persone sono state evacuate durante il fine settimana, i bambini si sono seduti su una zattera di fortuna per percorrere una strada, altri si sono arrampicati fino alle ginocchia nell'acqua dell'inondazione e alcuni hanno spinto motociclette in stallo. Si prevede che il sistema tropicale a bassa pressione nel Mar Cinese Meridionale porterà ancora più pioggia nella regione costiera centro-meridionale. Il Vietnam è soggetto a tempeste e inondazioni a causa della sua lunga costa. I disastri naturali principalmente inondazioni e frane causate da tempeste hanno ucciso 378 persone l'anno scorso. Terremoti sulla Terra. Durante il giorno sulla Terra si sono verificati 271 terremoti di magnitudo da 2.0 a 6.0, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. Il famoso gruppo di isole Wadu è chiamato da molti un cielo luminoso. L'acqua a specchio ipnotizza con un bagliore zaffiro di notte. Molti turisti organizzano una vacanza alle Maldive per vedere questa insolita illuminazione con i propri occhi. Se durante il giorno Wadu non è diverso dal resto dell'arcipelago delle Maldive, con l'inizio della notte lo scenario qui cambia completamente. Centinaia di scatti spettacolari possono essere catturati contro il bagliore luminoso degli schizzi o sott'acqua. I turisti hanno notato che non solo le onde possono brillare, ma anche le ammaccature dei piedi lasciati nella sabbia, impronte, iscrizioni, fosse, ecc. Grazie per aver guardato il video. Se vi piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.